Tempo di carnevali nella rettino al via domenica 28 gennaio in quasi tutti gli angoli della città e della provincia. Quello più antico d'Italia, Foiano della Chiana, è giunto alla 485esima edizione. Partiranno alle 15 le sfilate dei giganti di cartapesta. Il cantiere azzurri si presenta con il carro autoritratto con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray. Bombolo porta in scena Metamorphosis oltre la forma con l'espressione attraverso l'arte dei soggetti immateriali. I nottamboli portano invece e non s'arresta un'ora. L'allegoria del presente è vissuto con i fantasmi del passato e le paure del futuro. Infine i rustici con terapia d'urto, amleto archetipo dell'uomo moderno in terapia è l'allegoria degli intellettuali del tempo. Nel borgo di Castiglionfibocchi, Valdarno al via la 28esima edizione del carnevale storico dei figli di Bocco che renderà omaggio al maestro Giacomo Puccini nel centenario della morte. Due le uscite domenica 28 e il 4 febbraio. Torna anche quest'anno il concorso fotografico dedicato a Piero Franchini dal titolo Carnevale incantato, maschere e melodie nel castello di Rebocco. Ad Arezzo al via i due carnevale storici, Orciolaia e Rigutino, quest'ultimo peraltro ha già iniziato il 21 di gennaio. In città il carnevale dell'Orciolaia sarà come sempre ospitato dal Parco Ducci. Ogni uscita un tema e tanti ospiti, domenica 28 il trio Beppe, Marco e Robi e la Gina. Per i più piccoli invece i personaggi di Frozen e la caccia al tesoro a tema Harry Potter. A Rigutino oltre ai carri e alle ciacce fritte ci saranno Minnie e Topolino pronti ad uno scatto ricordo.